Ma diciamo che non c'è stato nessuno che abbia avuto un ruolo determinante, ma era tutto il contesto che era determinante. Il contesto dei, tra virgolette, vecchi giocatori che avevano vissuto quel dramma, chiamiamolo così, il dramma calcistico, sportivo, di due anni prima, che avevano una voglia immensa di rivalza. C'erano i nuovi, quelli che vivevano per la prima volta una finale di Champions League, e io ero uno di questi. C'era una società dietro le spalle che aveva voglia di vincere quel trofeo a tutti i costi, anche perché quell'anno non fu un anno a livello di campionato particolarmente esaltante. C'erano anche state, se non sbaglio, tante critiche durante l'anno. C'era il gruppo, c'era un allenatore fantastico che sapeva coinvolgere tutti quanti, tutto il gruppo, e poi c'erano i tifosi dietro, i tifosi al seguito che dimostravano dall'inizio alla fine questa voglia, questa volontà di portare un'altra volta in alto il nome del Milan.